Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video oggi insieme a Jack Dodino andiamo a girare addorno in motocross faremo qualche munch, un po' di allenamento e Jack finterà di 4.5 Honda e non si sa mai che anche io faccio qualche giro quindi un po' di giri in moto e gas! Grazie a tutti! lo tagliamo che non parte non parte non parte raga si è raffreddata no parte raga no parte raga no parte raga no parte raga Grazie a tutti. 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 Piccolo salto, destra e il famoso di ritorno. Salto carino, di qua a sinistra stretta del canale. Qua si cazzo. Questa linea è concordia. 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 Grazie a tutti. 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 Che moto are? Mi piaceva? Sì, ma c'è un motore esagerato. Cosa? Ha un motore esagerato. Giornata finita con Adorno. Tanto divertimento, ho provato anche un 4,5 per la mia prima volta e la moto è veramente tosta e ci vuole un bel po' di fisico per guidarla. Quindi con il mio 2,5, tanta roba, mi sono divertito un sacco ed è molto allenante per il mio sport, il downhill. Quindi giornata top e adesso si rientra a casa. Ciao! 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 Ciao!